Oggi parliamo di una miniserie di cinque numeri uscita per la sotto etichetta della DC Comics Vertigo, etichetta tra l'altro famosissima inutile stand a parlare per Sandman, Swimthing e altri importanti fumetti mirati a un pubblico adulto. In particolare perché ho voluto parlare di questa miniserie? Innanzitutto diciamo l'annello di collegamento con il resto del canale diciamo tematica del canale è nel fatto che è illustrata da Vince Locke, l'illustratore delle copertine di Cannibal Corse, che tra l'altro diciamo nel 94 aveva già lavorato su tutti diciamo i primi, il 94 è l'anno in cui Corpse Grinder arrivò nel gruppo quindi diciamo aveva ancora quello stile che poi in realtà è cambiato abbastanza ammarcatamente negli ultimi anni. Parliamo un attimo della storia di questa miniserie. Per parlare di American Freak bisogna parlare innanzitutto di Swamp Thing, un personaggio creato nel 71 da Len Wein, il famoso scrittore che ha creato diversi personaggi piuttosto importanti nei fumetti, uno tra tutti Wolverine, e Bernie Brideson, un genio assoluto del bianco e nero. Len Wein e Bernie Brideson dopo aver creato i personaggi di Swamp Thing nel 1972-1973 più o meno crearono anche un nemico di Swamp Thing, il tale Anton Arcane, un personaggio chiaramente ispirato al dottor Muro che durante diciamo le sue prime apparizioni fu accompagnato anche da una serie di sue creature, sperimenti genetici, poi in realtà la storia di Anton Arcane negli anni lui è morto e lo suscitato almeno tre volte cose di questo tipo. Però la cosa caratteristica di questo Anton Arcane erano le sue creazioni, in particolare questa sorta di creature deformi dalla carne praticamente sciolta, ulcerosa, che lui chiamava Han-Man, non uomini. Passarono una ventina d'anni diciamo dal 73 fino al 94, dove ritroviamo questa serie, la mini di American Freak, e finalmente vediamo gli Han-Man tornare sulla faccia della terra o meglio dell'universo narrativo divertivo. Questa volta però Arcane non c'è. La storia inizia, narra con la prima parte della storia un flashback che poi si capirà man mano che si legge il fumetto. Però parte con il ritorno di questo ragazzo di 23 anni alla base militare che per tutta la sua vita l'ha spesato e l'ha mantenuto. Questo perché detta di quello che, a quello almeno che lui sapeva, i suoi genitori lavoravano per l'esercito ed erano morti in un incidente, bruciati in un incidente periodo diciamo. Il nostro protagonista da qualche tempo inizia a sentire degli strani dolori, anche molto forti, sente quello che lui chiama l'unulato delle ossa, sente proprio ogni cellula del suo corpo urlare e gridare. King prova questi dolori terribili e decide di ritornare alla base dove conosceva un medico che l'aveva curato i primi anni della sua vita, su richiesta del medico che lo aveva assistito quando era giovane. King viene riportato alla base militare che si trova in Louisiana vicino ovviamente a una palude, a cimiteri e cose del genere, dove Swamp Thing era ambientato appunto nelle storie di Wrightson degli anni 70. La cosa interessante è che la base militare sembra essere pronta a ricevere questo ragazzo in una maniera anche leggermente sospetta, tant'è che c'è una vera e propria equip di persone che lo colgono e infine Kane riesce a parlare con il famoso medico che lui conosceva da piccolo. Questi lo porta nelle basi, in un'area nascosta della base dove mostra il perché dei dolori di questo ragazzo. Pare di fatti che lui sia l'unico sopravvissuto di una serie di esperimenti che fecero di vaccino contro una sorta di deformità pazzesca che fu ritrovata in questi Hand Man che 23 anni prima, 13 esemplari furono catturati dall'esercito e studiati. Dalle progenie di queste creature, diciamo dal cocktail genetico di queste creature di prima generazione che tuttora stanno in stasi dentro dei tubi criogenici diciamo, da questi incroci vengono fatti tutta una serie di esperimenti per curare la deformità di queste creature. Al dottore gli viene detto guarda che i tuoi esperimenti sono mirati a curare le deformità infantili e qui si apre tutta una serie di sottoragionamenti e sottotrame sulla genetica che poi più avanti vengono anche analizzate. Diciamo che la storia prosegue con questo ragazzo che viene a scoprire che è l'unico sopravvissuto di questo siero che è l'antidoto diciamo che sembrava non funzionare. Poi per un qualche motivo che non viene effettivamente spiegato, quando lui compie 23 anni qualche, diciamo non è il suo compleanno, dopo 23 anni circa, l'antidoto smette di funzionare e lui inizia ad evolvere, a diventare sempre più deforme e mutato. Questo diciamo è la storia del primo numero dei cinque episodi della miniserie. Viene richiamato da un Unman di prima generazione chiamato Crassus che è in contatto telepatico con un gruppo di Unman che si trovano nel paese natale di Anton R. Cain. Crassus dice al giovane Cain che Anton R. Cain è in grado di bloccare e rivertire il suo processo di mutazione, inganna il giovane Cain per farlo venire in Romania con lui. Infatti arrivano clandestinamente in Europa e lì Crassus ti dimostra aver ingannato il giovane Cain perché nessuno sa che fine ha fatto questo Anton R. Cain. Però lì c'è una comunità di freak di seconda generazione che vengono utilizzati come divertimento da un gruppo di nobili ricchissimi europei di famiglie antiche e degradate e utilizzati come fenomeni da baraccone. Molto perversi tra l'altro perché in mezzo c'è anche sangue, sesso, violenza inumane e cose di questo tipo. La storia prosegue con Cain che incontra una giovane nana senza gambe calva e con poteri di premonizione chiamata Scilla. I mostri più o meno hanno tutti i nomi di mostri della mitologia classica ovviamente. C'è anche un cane a due teste che si chiama Lessis al plurale. I freak, adesso non sto a spoilare troppo, però diciamo che si liberano, prendono un aereo con i signorotti nobili perversi a bordo e utilizzandoli come ostaggi riescono a tornare alla base dell'Elysiana dove incontrano l'esercito e provano a liberare i freak di prima generazione che erano custoditi dentro queste gabbie criogeniche. I freak di prima generazione però sono muti e praticamente incapaci di ragionare e solo di provare l'elorme dolore dell'esistenza in un corpo così deforme. Per cui pian piano iniziano a commettere suicidi. Crassus non riesce a capire come mai non possono salvarli. Da lì parte il finale della miniserie. Non sto a spiegare ovviamente come termina però diciamo che finisce con la stampa che interviene prima che avvinga una vera e propria e catomba e che i militari falcino completamente le vite degli Yanmen. Tant'è che c'è una bella frase all'interno del fumetto dove si dice questi militari hanno qualcosa di meglio dell'etica, hanno ordini quindi non hanno il dubbio di sapere che cosa fare. Diciamo che vengono salvati e il governo addirittura finiscono sulla copertina di Life Magazine e il governo gli dà un piccolo recinto dove pian piano vengono dimenticati e c'è una scena bellissima di una ragazza che si presenta alla fine diciamo proprio nell'epilogo dell'ultimo episodio che si presenta per farsi fare dei selfie, degli autografi da lui in particolare, da Kane che ormai è diventato estremamente deforme, quasi ovviamente riconoscibile e si capisce bene come tutta questa esposizione mediatica in realtà non è altro che un altro tipo di carcere. La cosa che è interessante è come mi ero segnato la parte ma mi sa che me la devo andare a ricercare, anzi andiamo a riprendere. Copertina tra l'altro meravigliosa. nel fumetto ci sono delle intere parti, qua si vede, dipinte da Locke. Arriviamo qua alla fine c'è questo pezzo che secondo me è molto interessante dove Kane dice non amano me, amano l'alienazione. Se il dottor Mengai che era il dottore che l'aveva seguito diciamo da giovane trovasse un miracolo, una cura miracolosa e mi farcesse tornare ad essere un umano queste persone penserebbero che li avevo traditi e mi metterebbero da parte per trovare qualcuno un freak ancora più orribile, ancora più piacente da adorare. La serie è molto bella, disegnata molto bene, forse eccessivamente introspettiva nel senso che il racconto viene un po' lasciato in secondo piano rispetto al pensiero del suo protagonista. C'è una scena molto bella dove i freak sono sull'aereo con questi nobili decadenti e gli chiedo ma voi cosa mangiate? Loro stanno mangiando delle lumache e gli dicono ma come voi siete ricchissimi, ti mangiate la roba che fa cagare persino al mio cane. Tutto il fumetto si basa un po' su questa assurdità. Gli almeni in sé mi ricordano nel gioco di ruolo in Dungeons & Dragons sembrano un pochino i lemuri che sono questi diavoli deformi, i Rutherkin. Qualcuno può darsi che abbiano preso un po' ispirazione anche perché Locke poi più avanti lavorò per, credo che lavori ancora, comunque ha lavorato sicuramente per diversi anni a cavallo del 2000 per la TSR. Allora ci sono un pochino di riflessioni da fare su questa miniserie. Allora la prima è secondo me è un pochino quelli che sono i riferimenti ovviamente cinematografici di questa opera. La prima cosa che viene in mente, il più primo regista che viene in mente quando si parla di deformità è ovviamente Cronenberg che si è occupato di deformità credo per tutti i suoi film in un qualche modo sono a mio avviso collegati da Existence a quel film splendido degli gemelli inseparabili. Cronenberg ha lavorato tra l'altro in una trasposizione cinematografica di una graphic novel disegnata da Locke che è History of Violence. Ma ovviamente è una cosa che salta in mente è la mosca, il suo degrado continuo, il suo mutarsi in un mostro un po' ovviamente ispirato a Kafka. Però al contrario dell'esperimento del Dr. Kappa da qui era ispirato di cui dovrebbe essere una sorta di remake preso un pochino con le pinz. Però Brandon Dolna la mosca è incosciente della sua mutazione, anzi l'accoglie perché dice sono più forte, ho i sensi più sviluppati, mi sento come non mi sono mai sentito. Invece Kane non vuole, cioè per tutto il fumetto si sente in gabbia, cioè non vuole assolutamente mutare. In un certo senso sempre collegato a Cronenberg si può anche fare il paragone con Nightbreed che è uscito in Italia come Cabal. Film degli anni 90 diretto da Barker dove Cronenberg stesso fa una parte come psichiatra serial killer che segue il protagonista che pian piano diventa sempre più deforme e poi si nasconde in un cimitero nella fantomatica città di Midian. C'è non a caso forse il cimitero anche in questa miniserie perché è il posto dove Crassus incontra Kane e insieme decidono poi di partire e dove lui si nasconde e dove probabilmente alla fine del fumetto ritornerà ma poi questo abbastanza è un'ipotesi che non è avvallata da nulla in particolare. Ovviamente può far venire in mente i grandi classici, i freaks di Tom Browning, anche in anni come certo i piccoli di Erzo questo fatto di utilizzare i freak come un fenomeno baraccone, ovviamente le Funtman. forse però secondo me il film che più si avvicina come ispirazione, ovviamente è un film del 2009 quindi magari Blomkamp li ha letto ma ho qualche dubbio, però a me è venuto in mente subito District 9 il film dove questi alieni deformi vengono rinchiusi in questa sorta di apartheid in Sudafrica e utilizzati un po' come schiavi degli schiavi degli schiavi come ultimissimo livello della società, degli asura in un certo senso. Difatti proprio nel film c'è questo qui che inizia a mutare, a diventare sempre più deforme però diciamo nel film di District 9 c'è anche un po' il cambio dove lui prima era dall'altra parte qui questo povero Kane è in realtà semplicemente un ragazzo che dice io mi occupavo soltanto di mangiare cinese e di andare a donne fino a qualche giorno fa e adesso mi trovo in Romania con delle creature deformi a fare da freak show. però diciamo ci sono vari strati di lettura e vari spunti anche sull'etica, sull'eugenetica, sulla storia della deformità che per tanti anni almeno nel periodo greco romano dell'antica del mondo classico si pensavano che era norma che creture, feti particolarmente deformi o comunque bambini nati particolarmente deformi fossero sacrificati o comunque uccisi alla nascita. c'è un po' il concetto della Pax Deorum, questa giustizia divina che veglia sull'umanità la Pax Deorum è quella che eticamente dovrebbe far prevenire gli uomini da aprire conflitti o guerre e con altre civiltà in scontri non necessari. Secondo la Pax Deorum tu puoi uccidere solo se vieni provocato per difesa. Secondo alcune teorie la Pax Deorum era anche una sorta di equilibrio divino per cui chi la violava poi in realtà aveva come punizione questi figli deformi. Poi la storia delle deformità è abbastanza altalenante nel corso del medioevo, del rascimento, dell'illuminismo eccetera. Nel seicento Gregorio Magno dice un'anima sana non troverà mai albergo in un'anima ora malata. Lui proprio condannava la deformità proprio come se fosse uno specchio dell'anima. Bisogna arrivare a Victor Hugo, a Quasimodo di Notre Dame per poter avere per la prima volta un personaggio deforme che però internamente era positivo, comunque una figura buona che poi dopo è stata ripresa milioni di volte. Non ultimo il nano di Game of Thrones Tyrion Lannister insomma. Che però Tyrion stesso è cosciente della sua deformità e la usa come arma. Quindi diciamo una persona che è arrivato a convivere col suo essere deforme. Tutto sommato è un tipo di sofferenza che ha annegato in tanti altri modi. poi un personaggio anche complicato e molto bello ma non è necessariamente frutto di questa discussione. Su Quasimodo tra l'altro esiste anche una vera e propria, è stata diciamo ricalcata anche una vera e propria patologia mentale. La Quasimodo fobia cioè questa sorta di richiamo continuo alla chirurgia estetica per curare una piccola defermità. Poi appena quella sicura c'è qualcos'altro che non va bene devo andare a correggere. Poi gli anni passano e ti trovi ovviamente in una gabbia di un corpo che è destinato a diventare un certo senso deforme. In realtà gli spunti come dicevo sono tantissimi e il fumetto secondo me è scritto anche molto bene. Parte da un concetto scientificamente non proprio credibile almeno non come è stato posto qui. perché tecnicamente secondo il fumetto questi hand men sono devoluzione del corpo umano o meglio risultati di una devoluzione di un corpo umano. Secondo un mi sembra un paleontologo ma comunque diciamo uno storico a termini molto antropologo a termini molto larghi. tale Luis Dollo che era appunto uno studioso diciamo belga un organismo incapace di ritornare anche solo parzialmente a un precedente stadio già realizzato dai suoi antenati. Secondo Dollo di fatti aveva diciamo improntato questa teoria che poi in realtà è stata smentita pare negli ultimi decenni a cui parliamo ovviamente del secolo scorso o due secoli fa mi sembra. Mentre secondo Darwin ogni cosa è un'evoluzione anche la comparsa e la ricomparsa di certi tratti genetici fa comunque parte di un percorso in divenire. Per cui comunque Dollo ha solidificato questo concetto secondo il cui è impossibile in un certo senso regredire una volta che certi step evolutivi vengono fatti. Però diciamo in questo concettualmente se uno applica la solita suspension of disbelief la cosa tutto sommato ha senso ed è anche stata sviluppata più volte. Soprattutto in un film di cui non ho parlato prima ma che adesso mi è ritornato in mente e volevo parlare anche subito. È il film che forse mi ha lasciato più una sensazione di malessere rispetto anche a tutti quelli citati prima. Ovvero un film di Kurt Russell nel 1980 con William Hart chiamato Stati di Illucinazione. Chi non l'ha visto è assolutamente obbligato a guardarselo perché è un film secondo me meraviglioso. E spiega la storia di questo ricercatore che sta investigando sulla memoria cellulare, sui ricordi ancestrali rimasti all'interno di una piccola zona dell'amigdala del cervello dell'uomo e che in qualche modo secondo lui si possono andare ad esplorare per andare a vedere effettivamente cos'era successo nel passato. E attraverso le sue ricerche inizia a prendere alcuni strani funghi da popolazioni, mi sembra centroamericano, messicano, mi ricordo. Dopo aver usufruito diciamo di queste sostanze lui si immerge in queste vasche di deprivazione sensoriale e pian piano riesce a tornare effettivamente indietro. Però sente il suo corpo devolvere ma a una velocità tale per cui rischia di tornare a essere un vero e proprio organismo unicellulare. Poi da lì parte tutta una parte totalmente fantascientifica, forse anche allegorica, ma decisamente lisergica che poi va assolutamente vista secondo me. È un film meraviglioso, un piccolo gioiello da riscoprire. Detto questo si possono fare, come dicevo, mille considerazioni. Il deforme al giorno d'oggi che è ancora visto come una sorta di, magari a livello opposto, non è più considerato qualcosa da sacrificare, da condannare, da uccidere sul nascere o da ostracizzare in qualche modo. Ma in un certo senso il giorno d'oggi è ancora così, anche se dall'altra parte è giusto uccidere una persona appena nasce. Comunque queste ammande di prima generazione si buttano del sole in queste vasche d'acido quando non hanno la possibilità. Tra l'altro facendo impezzire il povero Krasus che aveva fatto tutta questa fatica per portarli fin qua. Sono andato un po' avanti con i minuti, però è un fumetto che, guardate che meraviglia di tavole che ci sono. Questi sono gli hand men. O meglio come li ricorda il professore quando li aveva visti per la prima volta. Questo è il professore che spiega a ragazzo. Questo è Krasus. Qui sono nelle giungle della Louisiana, nelle giungle, nelle paludi della Louisiana. Questo è quella parte dipinta che secondo me è spettacolare di questo fumetto, è veramente meraviglioso. È un piccolo gioiello che va un po' riscoperto. Poi il concetto nel 2007, una decina di anni fa, hanno ripescato gli hand men e gli hanno fatto fare un altro paio di... Scusate che prendo sempre contro... Ecco. In realtà hanno ripescato gli hand men e hanno fatto degli altri episodi. Ho preso i paperback, magari cercherò di fare qualcosa di un po' più preciso perché stavolta sono andato un pochino a tentoni. Perché c'era tanta roba da dire ma tutto sommato andrebbe effettivamente strutturato un po' meglio un discorso di questo tipo. Però spunti di riflessione ci sono. Io consiglio vivamente di recuperare questa miniserie, mai stata tradotta in italiano, però è scritta in inglese e deve avere molto elementare. Anche per oggi è tutto per la cripta del marciume e ci vediamo alla prossima. Anche per oggi è tutto per la cripta del marciume.